La seguente è una guida amatoriale di un videogioco. I contenuti audio e video sono utilizzati a scopo informativo. Questo video non intende fungere da sostituto al contenuto originale. Quanti abbiamo riposito, per quanto riguarda questa volta al curino, è l'ultima volta che mi stanno la mano. Qui sono sono? Reggio anche quello che mi ha sbagliato, non mi interesse. E! Grazie a tutti 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 Oh yeah Let's see Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti We don't like you Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Don't you think that's a little bit too dramatic Can you give me something with a bit more of a beat? Yeah, that's better Grazie a tutti 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 Oh Grazie a tutti 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 Grazie a tutti